olaba gay allora eccoci qua sono finite le cvl e noi dobbiamo tornare un po a lavorare anche sui nostri villaggini anche approfittando delle offerte che stanno arrivate giusto giusto questa mattina in occasione del capodanno cinese ci sono delle chicchette che mi interessano per il mio villaggio principale e si farò delle gran spese purtroppo per il mio portafoglio farò delle gran spese mi ricordo di sostenere un creatore vi invito a guardare un po i vari creator che sono attualmente disponibili tipo filippo bian tipo il buon vamos il buon medda chiaramente il buon ferre il buon grax e tanti altri che ci sono che portano contenuti scegliete voi io farò lo mio stesso ma non vi dirò chi sostengo perché non voglio influenzarvi niente diciamo che ci trasferiamo senza ancora scontrare un'altra volta sul microfono speriamo ci trasferiamo sul villaggio facciamo le nostre cose vediamo un po quello che ci aspetta da trovare ok allora eccoci qua sul villaggino guardiamo un po nel negozio cosa c'è di bello c'è la skin del re pirata che è quella nuova re guerriero si chiama ok costa 10 euro 99 come le tutte le skin speciali hanno rimesso in vendita la skin della campione della regina guerriera quella che c'era l'anno scorso ed era l'unica skin che ci mancava a 11 euro potrò finalmente completare di nuovo tutta la collezione delle skin che quello mi interessa molto oltre questo cosa c'è monte cinghiale uno scenario pure dobbiamo sbirciare tante cose tante cose poi vabbè c'è la solita decorazione invece questa non la faccio la collezione però per voi giusto per informazione c'è una decorazione in offerta ok allora io vado a sostenere un creator e vado in impostazioni vado altre impostazioni scorro fino in fondo aiuto un creatore inserisce un codice e adesso qua voi dovete fare altrettanto no io non vi dico chi scrivo naturalmente ho tagliato il pezzettino però adesso nel negozio noi dovremmo avere la c famosa che dice che siamo stiamo sostenendo qualcuno niente io procedo agli acquisti voglio vedere un po tutte le skin prima di tutto mi porto in pari e comprerei la skin della regina vai clicca hai effettuato correttamente l'acquisto prima è 11 euro che se ne vanno della giornata va bene e abbiamo la skin andiamo anche a selezionarla io non volevo praticamente neanche mai vista soltanto in video e immagini e quant'altro e lo ammetto che è molto molto carina all'epoca feci lo sbaglio di non acquistarla ma adesso finalmente ce l'abbiamo e la selezioniamo anche ovviamente scegli eccola qua dopodiché si torna nuovamente il negozio io naturalmente faccio tutti questi acquisti perché uno mi piace che lascio classe 2 mi sostenete voi con i vostri like con i vostri abbonamenti con tutte le vostre modi di sostenere il canale altrimenti non lo farei chiaramente ognuno fa a propri gusti personali non è necessario fare tutto ciò non sostengo le spese pazze questo no se vi piace fare le collezioni allora tu hai stato un altro paio di maniche io purtroppo sono malato e le faccio allora skin del re guerriero ok procediamo all'acquisto anche di questo offerta speciale ricevuta o le che fatica che fatica e allora andiamo a guardarci anche questa skin del re vediamola un po ma il volto molto dettagliato molto carino il volto la coroncina tutto il cappellino strano ci sta fatta bene anche molto dettagliata come skin guarda a vederla in miniatura mi sembrava bruttina adesso raccolta così invece è tutto un altro effetto guarda mi piace molto devo essere sincero quindi comunque al di là del che mi piace o non mi piaccia noi andiamo a selezionarla ovviamente scegli e quindi al desto abbiamo anche il re vediamola un po da tempo vedere non ti nascondere dietro al municipio niente è timido vai fatti vedere ciao bello anche il gioco della spadina che fa tutto lei è sì 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 la regina che fa l'inchino ok abbiamo controllato bene i nostri reali ci resta soltanto un acquisto da fare un nuovo scenario un nuovo nuovo ed andare a sbirciare se c'è qualche particolare interessante ovviamente negozio eccolo qua monte cinghiale 8 euro per comprarsi questo scenario siamo sempre sull'account giusto ovviamente io controllo prima di di fare cavolate sì ci siamo negozio dicevamo alleluia finalmente ci hanno dato la nostra offerta un po di difficoltà probabilmente per colpa mia anzi sicuramente per colpa mia è la prima volta che mi capita comunque per la cronaca ma siamo riusciti ad ottenere tutto quello che volevamo scegliamo questo benedetto scenario scegliamo questo benedetto scenario e andiamocelo a sbirciare tutto quanto com'è nei suoi dettagli allora qua c'è il solito porticello con la stazione di pesca diciamo così pesci mica pesci ok vediamo se c'è sempre una banana in giro da qualche parte che di solito c'era da qualche parte una banana ma non mi pare di vederla vediamo se c'è qualche effetto qua sull'acqua sull'isolotto una cesta qualcosa che compare scompare non mi pare di vedere niente qua giù in fondo poi comunque qua c'è tutta la collina carinissima i villaggini stile scenario cinese sembra un po kung fu panda per dire ok vediamo un po qua che c'erano anche un gioco sulle finestre nello scenario invernale vediamo se c'è anche qua qualcosa del genere ma sembra che sia tutto fermo immobile ci sono i due cinghiali qua davanti due domatori per la precisione non due cinghiali con il loro martellone la neve che si accumula qua ok ponticello io non vedo nessun effetto grafico è naturalmente se io non li coglierò spero che li cogliate voi se acquisterete l'offerta ovviamente e indiciate cosa succede se c'è qualche effetto particolare qua c'è una farfalla che vola ma questo è quello dove c'è le situazioni solite dei giochi del clan quindi non penso che sia una cosa collegata o magari è una cosa nuova non lo so qua ci sono tutte delle torri tutto cambiato qua c'è un spazio tutto diverso dove raccogliere le risorse del carrettino e io mi faccio un altro girettino in giro perché c'è sicuramente qualche effetto che mi sono perso in giro allora c'è voluto un po ma ufficialmente credo di aver trovato l'effetto grafico che cercavo e se guardate bene qua si vede che si illumina la base della montagna e scorre la luce da una parte all'altra si vede ancora meglio se io faccio così vedete che c'è stato il riflessino che girava l'angolo e dovrebbe correre un po da tutta la parte della montagna da quello che ho intravisto infatti si illumina anche di qua visto questo è un effetto grafico semplice suave quant'altro però c'è un effettino grafico come volevamo come ci aspettavamo siamo soddisfatti direi ultima cosa che ci resta è questa sì che si può fare tutti senza spendere e nient'altro c'è una sfida un evento quindi andiamo qua eventi sfida del monte cinghiale guadagna tre stelle in un singolo attacco durante questo evento per ottenere gemme risorse due pozioni del costruttore inoltre viene a scoprire lo scenario monte cinghiale in anteprima così anche se volete effettivamente vederlo meglio senza il mio video necessario che magari non avete visto tutti gli auto vizi dei particolari potete farlo anche attraverso questa sfida andiamo a farlo e vediamo un po com'è se è complicata se non è complicata io non ho visto nessun video che di qualcun altro che provasse a farla ma abbiamo a disposizione 5 domatori 5 curatori 5 mongolfiere 6 goblin oh mio dio oh mio dio pozione di invisibilità e tutto il resto come diavolo si fa sarà bella complicata sarà bella complicata abbiamo 3 furie 4 gelo tutto il resto bombaroli non ne abbiamo proviamo 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 un po' ora io metterei re e regina con i 5 curatori su di lei no perché vanno sul re dai re no questo è subito da rifare c'è anche pipistrelli che escono fuori dallo scena ma ma what vabbè comunque la prova siamo soddisfatti parzialmente diciamo così ma pure c'è anche il super dragone ma cos'è ma non ci voglio credere ok quella dovremmo far fuori da soli senza grossi problemi perfetto io voglio aiutarmi con le mongolfiere sicuro e voglio fare così ok la regina che strada prenderà mettiamoci anche i sorveglianti insieme mettiamoci l'invisibilità qua sul gruppo ok facciamo va bene così mettiamo ancora un'invisibilità sulla regina e il gruppo mettiamo l'abilità voglio provare a risparmiare qualche cosa mettiamo questo e mettiamo qua questo dragone qua è la parte più tosta di tutto ok mettiamo il re iniziamo a mettere un po' di cose mettiamo l'invisibilità qua davanti mettiamo 5 domatori mettiamo l'invisibilità del re mettiamo la gelo insolviamo no per un pelo ok qua mettiamo tutto mettiamo un po' qua aspettiamo che i domatori facciano qualcosa lì che almeno riescono a combinare qualcosa e dobbiamo aspettare che faccia tutto il girettino per mettere anche la campionessa a questo punto direi nel momento più opportuno andiamo belli lenti belli tranquilli tanto è rimasta solo un inferno che possiamo sfruttare la nostra campionessa per far fuori tutto non sarà il metodo più corretto e ideale ma riusciremo ne sono convinto questa è la volta buona terzo tentativo ma è la volta buona tanto non abbiamo tempo qua che ci rompi le scatole vai campionessa vai ok qua abbiamo fatto fuori tutto abbiamo fatto fuori il re le ultime difese ok ci siamo ce l'abbiamo fatta forse una marea di scheletrini aiuto pensavo che fosse la parte più facile la regina ci ha lasciato le penne all'ultima cosa qua ci sono tutti gli scheletrini da gestire non abbiamo più pozioni speriamo che non si risvegli altro tra sorvegliante e campionessa colpo di scena quando sono entrati lì in mezzo ho avuto sinceramente paura ma dovremmo esserci stavolta finalmente dai 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 altro bombone sorvegliante che ci stava per lasciare le penne ma ormai non c'è più problema ultimo deposito un bel like perché ce l'abbiamo fatta col nostro metodo un po' alla cavolo però siamo riusciti a ottenere quello che volevamo dai 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 ottimo ottimo ok andiamo a guardare che l'evento è completato se faccio riscuoti 20 yes gemme gemme fanno comodo noi le vogliamo evento completato hai ricevuto quindi 35 gemme e 400 di xp ci sta ci sta signori noi abbiamo fatto tutte le nostre offerte abbiamo fatto le spese pazze vi abbiamo regalato anche la web cammina qua così avete visto come utilizzavo le mani durante l'attacco spero che sia una cosa simpatica carina se vi piace lasciate un bel like iscrivetevi al canale guardate in descrizione abbiamo fatto tutti i nostri acquisti abbiamo fatto le spese pazze noi lo facciamo per collezione perché collaboriamo con supercell perché vogliamo mostrarvi contenuti qualcuno di voi magari non li acquista o indeciso vuoi vedere un po prima come è fatto tutto quanto noi proviamo a darvi una mano in questo voi non fate pazzi come me se ci tenete lo fate se siete tra virgolette ricchi lo fate se no altrimenti non lo fate non è necessario è pur sempre un gioco vi ricordo in ogni caso che se volete farlo ci sono come al solito i metodi per sostenere il creator di supercell dovete semplicemente andare a scorrere tutto quanto e troverete il modo ve lo faccio ancora rivedere un'altra volta qua altre impostazioni niente detto questo spero ancora che vi sia piaciuto il video noi ci vediamo una prossima live e un prossimo video bye bye ciao